Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Perturbazione in transito sull'Italia, tempo spiccatamente instabile nella giornata di domenica 5 dicembre. Vediamo la situazione con l'aiuto della grafica. Sul Veneto al mattino sarà in prevalenza nuvoloso, probabilità alta di precipitazioni sparse. Nel corso del pomeriggio poi tendenza ad esaurimento dei fenomeni un po' dappertutto e col passare delle ore nuvolosità più irregolare con la comparsa di occasionali schiarite. Temperature stazionarie minime tra meno 2 e 2 gradi, massime sui 4-8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un tempo che sarà decisamente variabile. Lo vedete, piogge diffuse. Anche in questo caso andrà meglio con qualche parentesi soleggiata a seguire. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 5-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà qui più stabile. Sin dal mattino prevale infatti il sole. Temperature minime intorno a meno 1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Casa Casonna, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa. Grazie. Grazie. Grazie.